Il Cremlino ha annunciato che un compromesso sull'Ucraina neutrale secondo il modello svedese o austriaco è possibile, ipotesi che non può essere presa in considerazione, però dice l'Ucraina che solicita un modello basato solo su garanzie di sicurezza verificate legalmente. Per la Russia i punti chiave nella trattativa con Kiev, dice il ministro degli esseri Sergei Lavrov, sono la sicurezza delle popolazioni russofone nell'est dell'Ucraina e la sua smilitarizzazione. Il presidente Zelensky, nel suo intervento al Congresso degli Stati Uniti, propone un'alleanza di 24 paesi e chiede a Joe Biden di diventare leader della pace.